L'amministrazione comunale porta a Teramo il 9 maggio l'auto della strage di Capaci che è diventato il simbolo della lotta alla mafia. Sì, insieme all'associazione Falcone Borsellino, la prefettura e la questura abbiamo lavorato affinché questo fosse possibile nella nostra città. Quindi giovedì 9 dalle ore 9.30 fino alle 18 si potrà visitare la Teca con i resti dell'auto della Quarto Savona. È un evento molto importante, saranno coinvolte le scuole, le università per fare un momento di riflessione su quello che è accaduto e anche perché siamo sempre di fronte al problema mafia siamo sempre di fronte al problema delle organizzazioni criminali organizzate quindi è un motivo soprattutto di riflessione con le giovani generazioni che devono essere in guardia su quello che può essere il futuro vicino a queste organizzazioni. Resta davvero poco di quell'auto, almeno non ha più le sembianze di un'auto ma rappresenta alla perfezione una delle pagine più drammatiche della storia dell'Italia. Sì, assolutamente sì. Poi tra l'altro avviene il 9 maggio che è proprio il giorno del ritrovamento del corpo di Aldo Moro il giorno dei 100 passi, infatti ci sarà anche una passeggiata dalla prefettura fino in Piazza Martiri proprio con gli studenti. Resta poco di quell'auto, sono resti accartocciati di lamiere e gomme però effettivamente è un simbolo molto importante. Dove sarà possibile vederla? In Piazza Martiri, proprio in Piazza Martiri, ai piedi del Duomo e poi chiaramente ci sarà una manifestazione con tanti interventi ci sarà la moglie del caposcorta che è morto lì su questo attentato quindi invitiamo tutti i cittadini la mattina a questa manifestazione in Piazza Martiri dalle 10.30 e comunque a visitare, per prendersi un momento per visitare i resti di quest'auto perché veramente è un motivo importante di riflessione per tutti.